Ciao a tutti, oggi leggerò su Johan Willem Bien. Il politico olandese Johan Willem Bien convinse i leaderi europei ad accettare il suo piano di massima cooperazione economica. A metà degli anni 50, mentre lavorava la sua proposta di unione doganale, Bien si rese conto che sarebbe stato difficile convincere i scetici nella sua patria, i Paesi Bassi, e nel resto dell'Europa ad accettare una maggiore integrazione europea. La dichiarazione Schumann del 9 maggio 1950 e la successiva creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nel 1952 avevano rappresentato due traguardi fondamentali per la ripresa post-ibellica dell'Europa. Ma molti leader della Comunità guardava con sospetto ad un'ulteriore integrazione, soprattutto in termini economici. Bien era però convinto che fosse possibile una collaborazione ancora più ampia tra le nazioni europee. Il suo piano ruotava attorno al concetto che fosse necessaria una piena integrazione, non solo nel settore del carbone e dell'acciaio. La soluzione consisteva pertanto in un mercato comune globali, lungo la linea già tracciata della cooperazione tra Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, che nel 1944 aveva dato vita al Benelux. Presentando il piano Bien durante la conferenza di Messina nel 1955, spiegò che la unità politica che la maggior parte dei partecipanti, se non tutti, auspicavano non era concepibile senza un mercato comune e senza la condivisione di parti della responsabilità economica e sociale. In seguito alla setazione del piano Bien nel marzo del 1957, sei stati siglarono il Trattato di Roma, dando vita alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica. E qua, ripeto lentamente, perché è importante. Nel marzo del 1957, sei stati siglarono il Trattato di Roma, dando vita alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica. Vi dice qualcosa, vi ricorda qualcosa. Cosa stiamo vivendo adesso? Mi sa che c'è qualcosa che torna, né? Dei cambiamenti energetici, non torniamo al carbone, riuscite a collegare i punti. E principalmente in questa parentesi, voglio fare presente che queste decisioni sono state apprese nel 1957. Io, per esempio, che già sono vecchia per la generazione che vedo davanti a me, non ero ancora nata. Questo per ribadire che le decisioni prese oggi, i danni o i benefici, pagheranno o goderanno i figli dei nostri figli. Andiamo avanti. È lecito domandarsi come sarebbe proseguito il processo di integrazione europea se non fosse stato per il ruolo svolto di Willem-Beam. La sua presentazione del piano diede un nuovo impulso al progetto europeo, proprio quando se ne avvertiva maggiormente la necessità, contribuendo a creare la Unione Europea che conosciamo oggi. Come ho già detto, la mia conoscenza dei fatti sono scarsa e limitatissima. Johann William Beam fino ad oggi non lo conoscevo e non avevo sentito parlare. Per questo mi piace leggere, perché leggendo si conosce altre persone, altre pensiere. È bellissimo leggere. Comunque, tornando all'argumento, come è già stato chiaro dall'inizio dell'opuscolo, ma forse non è chiaro per la maggior parte della popolazione europea e soprattutto per quella italiana, parlo dell'Italia perché qua io ci vivo e quindi ascolto, vedo, insomma, è che la comunità europea è stata creata su una base economica, di interessi economici. Il discorso sociale che esiste e che è assecondato della comunità europea è una necessità più che una priorità. È una necessità. I principi della Unione europea è la creazione di una società civile. Non è una caritas. La Unione europea non è la caritas e questo doveva essere molto chiaro perché la Unione europea è stata creata su una base economica per garantire delle premesse che evitassi che nuovamente si trovassi in un contesto di guerra perché era un po' anche in antropologia si studia questo si scambiano le figlie dei nemici si scambiavano le figlie dei nemici per sposare i maschi delle altre tribù proprio per creare dei legami e così non avere motivi più di fare guerra perché diventano tutti parenti. È un principio anche è un principio molto antropologico oltre che economico ma è economico ma basandosi anche su un principio antropologico e questo si vede che non è molto chiaro. L'altro punto è la energia nucleare. Nel 1957 già si parlava di energia nucleare del rinnovamento era già pianificato quindi questo che stiamo vedendo oggi questa crisi energetica le domande che si sentono ma perché l'Italia ha tante usine del carbone perché non si reattivano perché non faceva parte del progetto e non fa parte del progetto. Il progetto è andare avanti. La terza cosa molto importante dal mio punto di vista da rifletteri riguarda giustamente la politica. È possibile distruggere la Unione Europea? È difficile tornare indietro? Allora, è possibile distruggere la Unione Europea? Perché se tutti i paesi decidono di uscire piano piano non c'è più la Unione Europea. È possibile tornare indietro? No, non è possibile tornare indietro. Quindi la riflessione da fare è è un vantaggio insistere in che la Unione Europea si sciolga perché le conseguenze saranno pesanti però le conseguenze di queste decisioni prese oggi subiranno, pagheranno, soffreranno o goderanno i figli dei nostri figli. Prova è che questo che ho letto è successo nel 1957 io che già sono vecchia per la generazione di adesso non ero ancora nata. Quindi esiste sì bisogna pensare questo le decisioni prese oggi pagheranno i figli dei nostri figli. Uno secondo ne vale la pena insistere in proposte politiche che non sono d'accordo non vanno in linea con un progetto che è stato creato prima ancora che molti di noi fossero nati e che qualsiasi cambiamento drastico non può portare altro che caos la riflessione politica che dal mio punto di vista si deve fare adesso è dimenticare l'eutopia e accettare il fatto che la Unione Europea è realtà il contesto da Unione Europea è chiaro e definito collaborazione economica è sociale per un sano sviluppo e per arrivare o per continuare in questa linea si devono applicare delle politiche che non sempre vanno d'accordo con i nostri ideali che non sempre vanno d'accordo con le nostre utopie però in questo momento non ci vuole l'ideale e le utopie ci vuole la realtà prendere delle decisioni che possono assecondare delle decisioni prese in precedenza e che possono produrre dei risultati migliori meglio o meno che il caos perché crisi è una cosa caos è un'altra conflitti è una cosa guerra nucleare mondiale è tutto l'altro è il caos perché ricordatevi che la guerra oggi che è già iniziata comunque dal punto di vista biologico chimico non sarà più la guerra come quella della prima e della seconda guerra sarà una guerra nucleare e nella guerra nucleare sopravvivi solo quelli che riescono ad andare nel buche e quelli che vanno nel buche sono gli svizzeri che hanno già sono i ricchi del pianeta e lì cadiamo un po' nella teoria della conspirazione di quelle pietre che c'erano negli Stati Uniti dei 500 mila abitanti della terra e entro in tante altre cose che può darsi sia anche vero però fondamentalmente tornando alla concretezza la concretezza è ragionati prima di votare votati in dei politici o dei partiti che sono in linea con il pensiero della Unione Europea perché altrimenti l'unica cosa che riuscirete ad avere è caos perché da solo nessun paese europeo può ancora prendere decisioni perché è da molto che loro sono vincolati in parte se non del tutto oggi come oggi del tutto è praticamente del tutto sono vincolati tra loro alla prossima